Il re Vittorio Emanuele III partecipò attivamente alla Grande Guerra. La sua presenza al fronte è documentata da diverse fotografie e la sua immagine è stata molto spesa nella comunicazione diretta ai cittadini italiani. Numerosi sono infatti i documenti che lo riguardano anche negli archivi dell'Ateneo di Bergamo e in particolare in quello degli anni della Prima Guerra Mondiale. Allo scopio della guerra Vittorio Emanuele decise di trasferirsi nelle vicinanze del fronte. Il 27 maggio 1915 il re giunse in treno a Treviso dove voleva stabilirsi, ma dato che Cadorna aveva intenzione di insediare il proprio comando supremo a Udine, il 30 maggio il re scelse di spostarsi a una decina di chilometri da questa città, a Martignacco, nella villa dell'avvocato Pietro Linussa che venne rinominata Villa Italia. Vittorio Emanuele vi rimase fino al 26 ottobre del 17 dopo la disfalta di Caporetto. Due giorni prima che gli austriaci arrivassero a Udine, per ragioni di sicurezza fu costretto a rientrare a Roma. Dalla villa di Martignacco quasi quotidianamente il re si muoveva per visitare i vari fronti, le postazioni, i reparti, gli ospedali militari e di questo danno testimonianza alcune belle cartoline dell'epoca conservate nell'archivio dell'Ateneo. Vediamo infatti il re in visita alle truppe, sul retro delle cartoline le didascalie ne spiegavano le attività. Vediamo quindi il re che incoraggia gli alpini, distribuisce sigari ai soldati, addirittura assaggia il rancio dei soldati e poi naturalmente visita i feriti e di questo abbiamo testimonianze del fatto che si fermasse spesso a parlare con loro. Questa foto è stata scattata da Aurelio Messina che era autista e portaordini al servizio del generale di stato maggiore Clemente Lecchio. Il generale Lecchio aveva il comando delle truppe della zona carnica e collaborava strettamente con Cadorna. In questa foto infatti vediamo il re che conversa con Cadorna, sono attorniati da alti ufficiali, Lecchio è quello seduto all'estrema destra per terra vicino al re che unico può godere delle comodità di una piccola seggiona. Durante il soggiorno a Martignacco naturalmente il re svolse anche una intensa attività strategica e politica incontrando diplomatici e governanti di tutta Europa. In queste fotografie in particolare vediamo la visita del primo ministro inglese Esquith avvenuta nell'aprile del 1916. Il ministro è il personaggio col cappello scuro e il capotto di pelle. Tra le altre personalità incontrate dal re nei due anni trascorsi a Villa Italia si possono ricordare il principe di Galles Edoardo d'Inghilterra, il presidente del consiglio francese Briand e anche il presidente della repubblica francese Poincaré, il principe di Serbia Alessandro, una delegazione russa, una giapponese, l'ambasciatore americano Page e nel 1917 lo scrittore Kipling. Le fotografie sono state scattate da Michele Dolci, era un ufficiale dell'artiglieria di montagna. Questa fotografia è particolare e piuttosto interessante perché ci mostra che ad accompagnare il re nella visita del primo ministro inglese c'è il figlio, il giovanissimo principe Umberto che nel 1917 aveva solo 11 anni e infatti il suo abbigliamento è ancora quello di un bambino. Le cartoline del tempo ritraggono spesso Vittorio Emanuele, quasi sempre insieme ai simboli dell'Italia, in questo caso il tricolore e la figura femminile dell'Italia turrita. Questa cartolina è del 1914, il re a sinistra assiste a una militare ma le parole fanno già intuire i venti di guerra. Qui abbiamo un'immagine del re avvolto nel tricolore con lo stemma Sabaudo. È commentata sul retro della cartolina da un poemetto celebrativo Viva il re, tratto dalla rivista Il Guerino Meschino. Chi doveva inviare i saluti non aveva altra scelta che scriverli sopra il poema. Durante la guerra il re è il protagonista di cartoline di propaganda. In questa il confronto Davide-Golia identifica la piccola Italia che sconfigge il grande impero austro-ungarico. Forse si fa anche un po' di ironia sulla statura del re. Nel 19 la guerra è finita. Il tratto del re è accompagnato sul retro da alcune sue parole che celebrano i soldati e i cittadini che hanno salvato la patria. Alcune cartoline sono particolari. In queste per esempio la figura del re emerge solo nel momento in cui la cartolina viene messa contro luce. Se mi guardi contro luce quel che io son tapparirò, ma se alcun la fiamma adduce finché vuoi mi ingrandirò. Oltre al re le cartoline ritraggono anche altri membri della famiglia reale. Qui abbiamo un giovane Vittorio Emanuele con la regina Elena di Monteregro sposata nel 1896. Nel 1904 una cartolina ricorda il battesimo del principe ereditario Umberto di Piemonte. Abbiamo quindi la coppia reale, la cerimonia del battesimo e a destra il padrino Alberto di Prussia che in quel momento non era ancora un nemico. La famiglia cresce e le cartoline ritraggono tutta la famiglia reale, sempre accompagnata dai simboli dell'Italia. Abbiamo quindi il re e la regina con i loro bambini, i principi Yolanda nata nel 1901, Mafalda 1902, Umberto 1904 e Giovanna 1907. In questa cartolina con le parole del poeta Carducci l'identificazione tra la famiglia reale dei Savoia e l'Italia è totale. I loro ritratti simbolicamente coprono tutto il territorio nazionale. Sulla Sicilia, l'ultimo genita, la piccola Maria Francesca nata nel 1914. L'archivio dell'Ateneo possiede anche alcune foto del re nel primo dopoguerra. La prima lo ritrae il 3 dicembre 1923 in visita ad Arfo dopo il disastro della diga del Greno, avvenuto solo due giorni prima, il primo dicembre. Vittorio Emanuele viene ad onorare le vittime della tragedia. Tra i personaggi che lo accompagnano possiamo riconoscere a sinistra dell'auto con i capelli bianchi il capo della questura di Bergamo, Ermene Gito Bartolozzi. Vittorio Emanuele III venne a Bergamo tre volte. La prima nel settembre del 13 per inaugurare il monumento a Cavour sul sentierone e porre la prima pietra dell'istituto tecnico al Forboario. La seconda nel 1922 per l'inaugurazione del monumento degli alpini davanti all'Accademia Carrara e per visitare l'istituto tecnico ultimato. La terza e quella che vediamo in questa foto fu il primo novembre 1925. Piazza Dante affollata accoglie il re che viene per inaugurare il nuovo palazzo di giustizia e la sede sempre nuova della Camera di Commercio, dal cui balcone il re si affaccia per salutare chi lo applaude. Non il re ma altri reali sono a Bergamo il 20 settembre 1930. Sono i principi di Savoia, Umberto e Maria Iosè che vengono a inaugurare l'ospedale che sarà proprio dedicato alla principessa di Piemonte. Abbiamo molte foto ufficiali di questo avvenimento. Questa però è stata presa da un cittadino al passaggio del corteo in via Paleocopa. Vediamo l'auto scortata da ben quattro ciclisti. Concludiamo con questa fotografia scattata da un bergamasco in viaggio a Napoli. È il 12 dicembre 1937 e sul portone della Regia Reale c'è un nastro bianco. È nato il principe ereditario Vittorio Emanuele, figlio di Umberto e Maria Iosè. La gente attende che Umberto si affaccia al balcone per darne l'annuncio ufficiale. Il bambino non diventerà mai re. Di lì a pochi anni l'evoluzione delle vicende del ventennio e la seconda guerra mondiale porranno definitivamente fine alla monarchia e alla storia italiana di casa Savoia.